come reclutare nel network marketing benvenuti in questo importante video sull'industria del network marketing da riccardo di gasparro iniziamo subito allora innanzitutto conosciamoci un attimo chi è riccardo di gasparro networker professionista con oltre 12 anni di carriera ho raggiunto la qualifica di diamante con circa 400 mila euro di fatturato in 27 giorni durante la mia carriera ho duplicato nella mia downline centinaia di qualificati dai 3.000 euro agli oltre 100 mila euro di fatturato per intenderci smeraldi o millionaire la mia rete si è allargata in oltre 22 paesi al mondo ho creato il blog di network marketing più seguito di tutta l'industria del network in italia e in europa che è riccardo di gasparro.com non so se lo conosci ma è un blog che ad oggi genera oltre mezzo milione di visitatori all'anno pieno zeppo di articoli formativi e informativi se te lo sei perso mi raccomando buttaci un occhio perché c'è tanta roba diverse testate giornalistiche italiane hanno parlato di me e del mio blog ho creato il primo video corso di network marketing apprendista che è un corso con oltre 40 lezioni lo trovi su rdg corsi.com ed è dedicato a soli networker in attività da 1 a 24 mesi e il mio canale youtube è l'unico ad avere centinaia di video formativi per un totale di oltre 150 ore di training totalmente gratuiti sull'industria del network marketing se ti sei perso il mio canale youtube mi raccomando vacci iscriviti al canale così potrai ricevere tutti gli aggiornamenti futuri allora network marketing come reclutare per diventare un vero maestro del reclutamento nel network dovrai sudare vagonate di camicie partiamo da questo punto per reclutare persone network marketing in ogni caso devi sapere che ci sono tre modi primo modo per reclutare nel network marketing frequenta i posti giusti online e offline online i posti giusti sono i gruppi facebook offline sono i locali e quant'altro so che è un po strano parlare di locali di uscite offline in questo periodo ma torneremo pure alla normalità quando sarà così dovremo farci trovare pronti se il tuo obiettivo è fare contatti il venerdì sera al mucca assassina di roma o al mule in rush di amsterdam o in un gruppo facebook dedicato a pornhub capisci bene che per ovvi motivi la tipologia di persone che puoi trovare lì ha ben altri obiettivi che costruire una downline network marketing quindi frequente posti giusti secondo modo per reclutare nel network marketing fare network marketing online oggi come oggi il mondo si è evoluto e sta correndo alla velocità della luce fare network marketing online è una cosa che devi iniziare a studiare seriamente mi auguro che tu sia in una rete che già fa network marketing online come si deve guarda prima possibile il video network marketing online che trovi sul mio canale youtube e iscriviti al mio canale te lo ripeto perché ci sono tanti video ti arriveranno tanti aggiornamenti importanti terzo modo per reclutare network marketing inizia a guardare tutte le persone che incontri con gli occhi del networker pro impara a guardare ogni persona come probabile nuovo potenziale partner o cliente per il tuo business e la tua vita cambierà ti può sembrare assurdo ma così è allora cosa non devi fare per reclutare nel network marketing i sei punti chiave da evitare come la peste presentarti come un barbone quelli coi soldi con la pala possono permettersi di scendere in mutande dalla loro lambo gialla se non hai ancora una lambo gialla vestiti in modo decente e non fare il barbone conoscere a metà il tuo business non puoi pensare che qualcuno voglia entrare in affari con uno che non conosce almeno alla perfezione il proprio business fare scena muta davanti a una qualsiasi domanda che riguarda il tuo business sarebbe oltre che una gran bella figuraccia un vero e proprio attentato al tuo portafoglio un vero imprenditore di successo conosce meglio di chiunque altro il proprio business sempre 3 parlare troppo e ascoltare zero un altro problema enorme il 95 per cento di tutti quelli che approcciano per la prima volta in network marketing o comunque tutta quella fetta di persone di distributori nuovi nell'industria non capisce quanto sia estremamente efficace e produttivo imparare l'arte dell'ascolto prima lo capisci e meglio è 4 essere titubante e tentennare idem con patate per livello di gravità un imprenditore di successo non tentenna mai quando parla del suo business perché lui è padrone del suo business conosce tutto ha studiato e ha uno spirito imprenditoriale come potrebbe tentennare 5 agire senza prima esserti formato è un errore comunissimo ricordano sempre principiati si lasciano sopraffare dall'entusiasmo i professionisti lo gestiscono partire a bomba senza aver studiato una massa senza aver fatto almeno una decina di training senza essersi formati almeno sulla base può essere l'errore fatale che ti fa dire addio al sogno di libertà con network marketing in tempo zero fai attenzione 6 evita lo spam sui social network non smetterò mai di dirlo non è mai abbastanza dire sta roba manco alicani per favore non seguire l'esempio imbarazzante e patetico di alcuni soggetti non identificati e di leader che consigliano tutta sta roba se vuoi reclutare gente sui social network cerca di muoverti con intelligenza e cerca di osservare quello che fanno i grandi leader del settore un importante consiglio finale affidati solo ed esclusivamente a leader esperti che fanno network marketing da anni e network marketing online da molti anni e che possono dimostrarti nei fatti i risultati di livello almeno qualche milione di euro perché altrimenti parliamo di bruscolini proprio per questo motivo voglio dirti che visto che me lo chiedete sempre in tanti se non sei pienamente soddisfatto della tua attività se il tuo desiderio è quello di entrare in un team davvero esperto e potente a cui poterti affidare che lavora con un metodo 100 per cento online se sei in cerca di nuovi stimoli e vorresti cambiare drasticamente la tua situazione per te stesso e la tua famiglia devi sapere che nel mio network trovi tutto questo azienda davvero solida in crescita e regola realmente innovativa al passo coi tempi sistema di lavoro collaudato 100 per cento online una rete nuova grande e potente fatta da migliaia di distributori presenti in tutta Europa che ha fatto il suo primo cliente online nel 2014 e che ad oggi genera questi numeri imbarazzanti in futuro sarà il delirio ad oggi facciamo 100.000 nuovi clienti ogni 90 giorni totalmente online e 2 3.000 nuovi iscritti al mese totalmente online un milione di euro di fatturato alla settimana che dirti questo video è terminato guarda anche tutti gli altri video che ho fatto vai sul mio canale youtube fidati controlla le playlist e quant'altro per maggiore informazione per richiedere di entrare nel mio team leggi qui sotto qua sotto la descrizione di questo video e segui le indicazioni per metterti in contatto con me da riccardo di gasparo è tutto che dirti ti aspetto e ci vediamo alla prossima ciao